L'educazione è il grande motore dello sviluppo personale e grazie all'educazione che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore, il capo miniera o un bambino nato in una famiglia povera, il presidente di una grande nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che abbiamo e ciò che distingue una persona dall'altra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.